Piena notte a Barletta, le strade del centro si sfollano, la gente torna a casa e probabilmente a casa stava rientrando anche la coppia che è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona, mentre commette un furto in via Ferdinando d'Aragona. I filmati ricostruiscono perfettamente la scena ed evidentemente le intenzioni dei due. Disinvolti passeggiano, mentre lei parla lui volta lo sguardo verso la vetrina di un negozio di abbigliamento, si ferma, la sua attenzione è rapita dalla cassa, prosegue ancora un po' dopodiché entra in azione. Ha preso una pietra e ha la scaraventata contro il vetro. Un solo colpo deciso, la vetrata è andata in frantumi, lei è rimasta all'esterno, lui è entrato. Si è avvicinato alla cassa, ha preso quello che doveva prendere ed è uscito e sono andati via. Tranquillamente? Tranquillamente, sì, come se niente fosse. I due si sono allontanati con un bottino che si aggira intorno ad un centinaio di euro, il danno invece di molto superiore. È stato riparato il mattino seguente dai titolari del locale che hanno denunciato l'accaduto ai carabinieri della compagnia di Barletta, che sono al lavoro per identificare i responsabili. Vetro sostituito, si passa presto ad affrontare il tema sicurezza. La responsabile del negozio chiede che l'episodio faccia da apripista ad una maggiore attenzione delle forze dell'ordine, nella speranza che non si incancrenisca anche a Barletta il fenomeno tipicamente barese delle spaccate alle attività commerciali. Spero anche che durante la notte, quando la città è spenta, ci siano un po' più di controlli, anche per salvaguardare un po' tutti. Credo ci sia dovuto da cittadini e da lavoratori.